Era venuta, cioè come un setaccio, c'erano quelli che restavano sopra e quelli che passavano sotto. Non abbiamo voluto noi sentire, non abbiamo voluto noi sentire, perché ciò che è insupportabile, è di parlare e di non essere sentire. È insupportabile e è arrivato così sempre a noi tutti. Ci siamo tutti che, grazie a l'abilità o la chance, non hanno mai avuto il fondo. Ciò che ci hanno fatto non sono venuti per raccontare o sono venuti mui. Ci sono la règle, non l'exception.